Sabato 28 maggio si è svolta a Piano Vetrale, frazione del Comune di Orria, la prima edizione del concorso Una fiaba tra i murales, promosso e organizzato dall'Associazione Fiabe in Borgo, rivolto agli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Salerno. Numerosi gli studenti che hanno affollato le strade del piccolo borgo cilentano, che tra i murales e fiabe hanno trascorso una giornata all'aperto e all'insegna della cultura. Il Presidente dell'Associazione, Maria Luisa Di Matteo, ha voluto complimentarsi con gli studenti, il corpo docente e i dirigenti scolastici, per il proficuo lavoro svolto nel corso dell'anno scolastico, che ha portato gli stessi alla realizzazione dei lavori che sono stati valutati da una commissione. Tre i lavori premiati Sezione A Scuola Primaria, il Magico Cilento, dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo Scuola Primaria, Stromilli di Giungano, classe prima, referente Trama Anella. Sezione B Scuola Secondaria di Primo Grado, fiaba di un bambino che non voleva emigrare, dell'Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo Francesco Enrico, classe prima E, referente Spada Lucia. Sezione C Scuola Secondaria di Secondo Grado, musichiamo la fiaba, la figlia del boscaiolo, liceo musicale Parmenide di Vallo della Lucania, referenti i professori Cartolano e Alessandro Schiavo.